Benvenuti alle teorie di Darwin, protagonisti che raccontano e si raccontano. Siamo a Settimo Torinese, sul campo del Pro Settimo Eureka, con Jacopo Zenga, attaccante, figlio d'arte, figlio del mio amico Walter, che è stato uno dei più grandi portieri della storia italiana. Benvenuto Jacopo. Grazie. Senti, tu sei del 1986. Tu pensi che nel 1986 io ero inviato di tutto sport e mondiali messicani e su una panchina così stava seduto tuo papà, che era il terzo portiere dietro Giovanni Galli e Tancredi. Poi tuo papà ha fatto una grandissima carriera. Io so che anche tu hai cominciato da portiere. Poi a nove anni hai detto no, però riesco a fare i gol. Sì, in realtà mi hanno messo in porta, diciamo per, non so bene perché, però mi hanno messo in porta dall'età di sei anni e dopodiché per caso durante le ricreazioni a scuola giocavo sempre fuori, diciamo. E a nove anni, mi ricordo all'inizio della nuova stagione, che quando si è piccolo inizia agosto-settembre, ho chiesto all'allenatore, ho detto io non voglio giocare in porta, voglio giocare e fare gol. E da lì ho iniziato a fare piano piano l'attaccante. Devo dire che nei gol ne fatti tanti, con una carriera che è sempre stata tra la Serie B e Svizzera, la Serie C e la Serie D, adesso sei in eccellenza, tra l'altro state facendo un campionato, devo dire, straordinario. Jacopo, cosa ti è mancato per fare il grande salto? Perché? Fisico ce l'hai, le doti ce l'hai, i gol li fai? Io penso sempre che credo al destino quando bisogna prendere il treno al momento giusto e bisogna trovarsi nel posto giusto al momento giusto, perché come me ci sono tanti altri giocatori molto bravi tra eccellenza, Serie D, C, che magari hanno giocato in Serie B, Serie A. Io penso che, come tutte le cose, un po' sono mancato io in certi frangenti, un po' sono mancate altre condizioni. Ho imparato nella vita a non guardarmi più indietro, perché il calcio è uno sport che vogliono praticare tutti e se uno perde tempo a guardarsi indietro, anche le opportunità di giocare in queste categorie… Senti, il cognome è stato pesante. Sicuramente fino ai 18 anni, 19, ne soffrivo parecchio io, anche solo il peso, perché quando sei più piccolo giochi davanti a platei di 25 persone, senti tutto, e sei più piccolo e quindi tendi a farti scivolare meno le cose addosso. e quindi nel momento in cui mi sono staccato proprio mentalmente da questo… non chiamiamolo problema, però da questa situazione… Ma è una questione diciamo che era anche psicologica. Sì, certo, nel momento in cui mi sono staccato ho iniziato a divertirmi di più, giocando. Senti, com'è la tua vita extra calcio? La vita extra calcio? Io sono fidanzato con una ragazza di Numerica che ho conosciuto quando giocavo a Casale nel 2008-2009. Tu vivi a Casale? Sì, adesso vivo a Casale perché poi nel frattempo, quest'anno sono stato ingaggiato dalla Pro Settimo e allora non conveniva prendere appunto la casa a Settimo, visto che Casale è a mezz'ora da qua e vivo con lei. Abbiamo insieme una splendida cagnolina. Che si chiama? Vanitosa, che è il nostro… Che si chiama? Vanitosa. Ah, Vanitosa. Che è assolutamente… Bellissimo. Io e lei siamo molto appassionati di cani, quindi ci dedichiamo molto a lei e niente, abbiamo ottimi progetti insieme e niente, cerco di fare, anche se è eccellenza così, io cerco di comportarmi da professionista, quindi dedico tutto al calcio. Senti, tu hai fatto anche una parentesi in Giordania, no? Sì. Ecco, e com'è andata? Fantastica. So che sei rimasto appunto letto… Fantastica, è un'esperienza… penso che mi servirebbe un'intera giornata per raccontarla, per dai modi, gli usi, i costumi, il modo di mangiare, il modo di interpretare che hanno loro prima della partita, il dopo… fantastica. Mi è dispiaciuto tantissimo andare via, ma quello che molte persone non capiscono è che la Giordania fa sì parte della penisola arabica, ma la Giordania non è un paese ricco, il Kuwait, il Qatar, gli Emirati, l'Arabia Saudita sono paesi ricchi, lì loro vivono semplicemente di sponsorizzazioni come può essere l'Italia e nel momento che uno sponsor importante viene a mancare, loro sono stati molto onesti dicendomi che l'ingaggio non potevano più permettersi quell'ingaggio e a quel punto dopo tre mesi e mezzo abbiamo deciso di tornare. Senti, tu hai fatto anche di recente uno stage in California, nel Sacramento che gioca in Serebica, com'è andata questa esperienza invece californiana? Anche questa è affascinante. Anche lì, anche questa è stata affascinante, ero molto curioso di vedere come interpretavano il calcio praticamente da completamente l'altra parte del mondo e ho trovato sicuramente gente preparata, è un movimento che sta sicuramente crescendo, basta pensare che la società Sacramento è stata creata a settembre e ad aprile avranno uno stadio nuovo di 10.000 persone costruito, quindi è un movimento proprio che sta crescendo, diciamo che per andare dall'altra parte del mondo devo essere convinto al 100%, non può essere solo un capriccio. Però potrebbe diventare anche una scelta di vita, non una scelta… Sì, certo, però bisogna sempre valutare anche quello che si lascia. Perché so che tu parli diversi lingue. Sì, io parlo correttamente inglese, francese e spagnolo. Appunto, quindi. Però secondo me bisogna sempre valutare anche quello che si lascia e io qui sinceramente ho trovato una società fantastica, un gruppo di giocatori forte e mi diverto tantissimo a giocare qui e quindi… Senti, io sono da buon italo-brasiliano che sono andato a San Paolo, io so che tu hai avuto anche un'offerta da una squadra di San Paolo. Sì, lì è nato che tramite un agente lì ci sono i campionati statali. Lo so, che sono importantissimi. Sì, per loro sono molto importanti. Perché i campionati nazionali sono arrivati dopo. Sì, lì sono molto importanti. È un po' come, per fare il paragone, un po' come se in Italia ci fosse il campionato Piemonte, campionato E, gioca tipo Juventus pro settimo, queste cose così. E tramite un agente c'era la possibilità di andare lì. Il problema è che… All'Oest. All'Oest, che è una squadra dello Stato di San Paolo, ma è a tipo 300 km da San Paolo. Il problema è che bisogna, in queste operazioni di mercato, soprattutto con l'estero, bisogna prenderle tutte con le molle perché i tasselli devono essere messi tutto al posto giusto. Non basta solo l'invito scritto e il biglietto aereo. Servono delle garanzie maggiori. E torniamo sempre al discorso di prima. Io non sono un giocatore senza squadra, che non sa cosa fare. Quindi, purtroppo, non sono mancate determinate condizioni e gli ho detto, guarda, io non parto.